Buongiorno, Orchidea di Ambrosolo, Orchidea di Medicina per l'arrivo, le cose libri, l'orchidea, storia e personaggi, quarta edizione, 572 pagine di orchidee, c'è un po' tutto sul mondo dell'orchidea. Allora, oggi, su un altro supermercato che devo comprare due spugne per fare l'esperimento delle spugne, quello che si fa nelle scuole di pluricoltura, abbiamo comprato un'altra cosa, allora ho comprato le spugne. Adesso vediamo il prossimo giorno che il mondo va al supermercato di comprarla. Allora, mi raccomando, iscrivetevi al canale Orchidea di Ambrosolo di YouTube, basta cliccare il logo che c'è in basso sulla destra, poi iscrivetevi al canale, al canale quello lì, al gruppo Facebook Orchidea di Medicina per l'anima e l'altro, le orchidee degli semi, le più belle di tutte, come per esempio le strepie. Queste sono le strepie con fiori abbastanza piccole, vedete, però in questo momento è l'unica fiorita, guardate che la vediamo di tenere fermo, vedete, è un fiori molto particolare. E ci sono parecchie specie di strepie, da piccole piccole, anche molto grandi, con fiori molto grandi, le piante generalmente sono piccole. Vedete, tutti i fiori, tutte le orchidee hanno tre petri e tre seppri, tre petri sono uno, due e il labello, e tre seppri che sono quelli esterni. Nel caso delle strepie c'è il sinsepolo, cioè praticamente questo è il seppolo d'ossale, questo qui è il sinsepolo, praticamente sono due seppri assiattati assieme, mentre il labello piccolo piccolo lì, col colore del sinsepolo. Invece questi sono i due petri, i petri che il seppolo d'ossale sono filiformi, così, che finiscono a goccia, come le antenne degli insetti. Sono originari delle Ande, a partire dal Messico fino a quasi a Brasile, per cui sono piante con un'amplissima diffusione, è molto facile anche da cultivare, basta avere un ambiente fresco di notte. Sono piante da fresco, sono piante di montagna, la maggior parte, a parte poche, la maggior parte vengono sulle montagne dell'America tropicale, sulle Ande. Vogliono notti fresche d'inverno, ombra d'estate, non devono mai asciugare troppo, perché non hanno pseudobulbi, come tutte le plerotalidine, mentre la maggior parte delle orchidee ha degli pseudobulbi, vedete questi qua, che servono per alcuni di riserva, oppure nelle folle noffi sono delle foglie molto carnose, che sono quelle che fanno alcuni di riserva, le plerotalidine no, per cui non devono mai asciugare completamente. La caratteristica principale delle restrepie è quella di essere parecchio fiorifere, perché ogni nuova foglia fa fino a 10 fiori l'uno dietro l'altro, e i fiori sono anche molto curiosi. Un'altra caratteristica è che i fiori vecchi, quelli che sono già fioriti, si possono riprodurre da foglia, le foglie vecchie che sono già fiorite, quindi si sono già finita, finita la fioritura, si possono staccare, si infilano nello sfoglio fino all'attaccatura della foglia, e generalmente la maggior parte radicano e generano delle piantine. Diverse orchidee, le plerotalidine, hanno questa caratteristica, che si possono fare da quasi natalea. Le rastrepie hanno la caratteristica di essere delle piante che sono state studiate, soprattutto da un grande botanico, le plerotalidine in generale, Carlisle Luehr, che Carlisle Luehr si è messo a studiare orchidee all'età di 62 anni, è diventato l'autorità mondiale delle orchidee, adesso è morto, mi sembra, l'anno scorso, due anni fa, all'età di 93 anni. Lui era grande chirurgo, ma all'età di 62 anni ha avuto una malattia che non poteva più fare chirurgo. Lui era una persona molto lavorativa, molto metodico e un gran lavoratore, e si è trovato disoccupato di colpo, perché non poteva più fare più chirurgo, non sapeva cosa fare. Allora era amico dei selbi, i selbi sono quelli che hanno fondato il Mary Selby Botanical Garden in Florida, la sotto in Florida, il più grande centro studi delle piante epifite. E allora era sempre lì che Bigelonava a selbi, e a quei tempi da Carlisle Luehr, cioè Carlisle Luehr, Callaway Dodson, che era il direttore del Mary Selby Botanical Garden, era stupo di vederselo in giro così che Bigelonava, gli ha detto, stava esaminando una plenotardina, gli ha detto, senti, non c'è proprio niente da fare, ma studia queste piante qua che non lo studia nessuno. Lui si è messo all'età di 62 anni a studiarle, ed è diventato l'autorità mondiale delle plenotardine, oggi sono tantissime le plenotardine, circa 6.000, più di 6.000 specie, la maggior parte delle quali è descritta da Carlisle Luehr, perché prima moltissime plenotardine sono piccolissime, microscopiche, e nessuno le studiava perché erano piccolissime, abbastanza significanti, alcune sono molto pericenti, come le strepie, le masdevalie, così, ma certe no. Oggi appunto sono diventate un genere grandissimo le plenotardine, perché le plenotardine, poi si dividono le plenotardine, le strepie, le masdevalie, le stelice, così, in tanti tipi, e ce ne sono ancora tanti da scoprire. E vabbè, dai, adesso è sotto lungo, a domani.